Continuiamo a ritmo serrato con questo secondo appuntamento degli e-forum live di Pointess Italia. In studio con noi vado a salutare Lidia Comians, amministratore delegato di Pointess Italia. Lidia, grazie di essere con noi. E abbiamo come ospite in studio, in questa terza tornata, Alessandro De Martino, che è l'amministratore delegato di Continental Italia. Buongiorno a tutti. Lidia, la partnership tra Pointess e Continental non nasce oggi? No, la partnership è una partnership storica. Continental naturalmente è partner a livello internazionale, non solo in Italia. Ed è una partnership importante in quanto Continental è produttore dei nostri pneumatici a marchio privato Pointess Tire. Quindi diciamo che possiamo dire che è fondamentale, è un partner fondamentale sicuramente. Lascierei la parola comunque ad Alessandro. Una brevissima premessa. Alessandro è presidente di Continental da tanti anni ormai. Vado per i 15 ormai, vado per i 15. Molto longevo, no? È un po' anomalo, no? Perché in un mondo dove i manager si susseguono molto velocemente. Io credo nei progetti, credo nel fatto di dare continuità alle iniziative e di vedere poi i risultati, nel bene o nel male. Perché è solo così che si fanno le costruzioni che durano nel tempo e sta funzionando. Continental è un'azienda, chiaramente lo giustamente citava Lidia, molto importante a livello non solo italiano ma a livello mondiale. Per la fila italiana si sono raggiunti i risultati notevoli in questi anni. Stiamo continuando a crescere bene perché sempre più persone conoscono i nostri prodotti. Facciamo ovviamente dei nostri sforzi per investire e per dare qualità alla nostra azione. E in effetti chi li prova è contento. Mercato molto complesso, quello degli pneumatici che chiaramente ha subito delle difficoltà legate alla pandemia che purtroppo stiamo attraversando. Lascio la parola al Presidente di Continental Italia che ci racconta come sta vivendo Continental questo periodo ma soprattutto qual è il legame con Point Test Italia. Sì, diceva giustamente Lidia un attimo fa che noi abbiamo una collaborazione da anni e tra l'altro abbiamo un prodotto che produciamo proprio per il gruppo Point Test. Non è tanto di questo che voglio parlarvi ma anche citare il fatto che la nostra gamma premium, perché voi avete dei clienti che sono a volte alla ricerca del prezzo, a volte alla ricerca della qualità, a volte alla ricerca di un altissimo livello tecnologico e in questo noi pensiamo di essere molto forti. Ma io sono qui per parlarvi piuttosto di quello che sta succedendo nel mondo automotive. Perché Continental vi racconta queste cose? Forse non tutti sanno che un quarto del nostro fatturato totale, circa 44 miliardi, è legato a pneumatici. Due terzi sono legati a componentistica di primo equipaggiamento per il mondo automotive. Quindi noi produciamo, lasciatemi dire, pezzi di autoveicoli. Componenti, come vedete c'è una parte legata agli interni, una parte legata alla sicurezza, una parte legata all'alimentazione e siamo molto avanti nello sviluppo delle auto elettriche, delle auto a guida autonoma, delle auto connesse. Quindi siamo veramente una delle pochissime aziende nel mondo che stanno costruendo i veicoli del domani e in questo senso vogliamo raccontarvi alcune cose su come sta evolvendo la mobilità e il mondo dell'automotive. Ci sono alcuni megatrend che stanno arrivando e stanno arrivando. Un tema è quello dei limiti alle emissioni, in particolare il CO2, ma non solo il CO2 ovviamente. Un parte è la risposta a questo, c'è l'elettrificazione dei veicoli e poi come sta cambiando il contenuto degli autoveicoli, proprio il modo in cui sono costruiti. E quindi passiamo qualche minuto a parlare di queste cose. Innanzitutto sta cambiando il mondo, sta cambiando il mondo della mobilità, c'è una strada spianata a nuove soluzioni, il mondo non è più fatto solo da clienti privati ma da flotte che comprano grandi numeri di veicoli e quindi incidono veramente su come è fatto il veicolo. Da soluzioni connesse, ormai chi ha visto i veicoli nuovi sa che parlano col mondo circostante e che le città diventano sempre più smart, quindi l'infrastruttura che sta intorno ai veicoli può dialogare con i veicoli perché è organizzata per fare questo, non solo le città, anche le autostrade per esempio. Poi sta cambiando la complessità dei contenuti, per esempio oggi per avere l'autoguida autonoma ci vuole il 5G e ci vuole una quantità di dati che vengono scambiati incredibile e quindi ci vogliono computer ad alta performance. C'è un tema di software, ne parleremo tra un attimo, e c'è un tema di ciber sicurezza perché non si vuole da fuori poter hackerare i veicoli, capite che c'è un tema di sicurezza molto importante. Infine cambiano i mercati, ci sono sempre più servizi di mobilità, pensate solamente a tutto il tema del car sharing e quindi al fatto di avere dei veicoli che possono essere gestiti da un cliente che non ha le chiavi ma che può accedere. Pensate al tema della coopetizione, cioè noi tutti lavorano con tutti, tutti investono con tutti perché i soldi che è necessario investire per far funzionare questo mondo nuovo sono talmente cifre importanti che nessuna azienda lo può fare da sola. E soprattutto nessuna azienda ha tutte le competenze che ci vogliono per fare tutte queste cose e quindi si lavora insieme e si fa anche un po' di competizione. E infine i prodotti stanno diventando sempre più ibridi. Oggi un'auto potrebbe essere un cellulare su ruote, potrebbe essere un'auto che funziona come un cellulare. Chi lo sa? Parliamone un po', se avete voglia. Allora, cominciamo dall'inizio. In questi anni l'Unione Europea ha messo dei limiti molto stretti e sempre più stretti sulle emissioni degli autoveicoli. Noi tra l'altro qui siamo in Lombardia, cioè nella pianura padana, che è forse la regione più inquinata d'Europa e quindi c'è un tema di sicurezza della salute che riguarda anche noi tantissimo. E quindi l'Unione Europea ha deciso di intervenire riducendo, qui lo diciamo nella slide, del 30% delle emissioni entro il 2030 e del 15% entro il 2025. Il 2025 è domani, sappiamo perfettamente quello che è successo negli anni passati con un po' di giocare con le regole e adesso sta diventando molto difficile. Allora, i costruttori oggi, per come è fatta la tecnologia, hanno solo un modo per stare dentro questi limiti e cioè vendere tante auto elettriche. Siamo in un momento veramente particolare di questa evoluzione perché ora che, ma da pochi mesi direi, sono disponibili sul mercato sempre più modelli con un costo ragionevole e ci sono gli incentivi all'acquisto, improvvisamente diventa possibile per le persone normali acquistare veicoli a un prezzo ragionevole. Io ero ancora un paio di anni fa a Ginevra e commentavo che i veicoli presentati lì per lo più erano veicoli dai 60-70 mila euro in su e chi se li può permettere. Quando oggi abbiamo veicoli dai 25-30 mila euro alla fascia dei 50 mila è una cosa su cui bisogna lavorare. Quindi, vediamo che le immatricolazioni in Europa e in Italia stanno crescendo tanto. Vedete nella slide i cinque veicoli più venduti in Italia. La Zoe, che è un'auto piccola. La Fortu, che è un'auto molto piccola. La Tesla Modello 3, che definirei una berlina comoda, ma non è un'auto di lusso. La Volkswagen Up, che è un'auto piccola. E la 208. Allora, si sta creando immediatamente nei volumi un tipo di utilizzo, che è un utilizzo per uso, diciamo, cittadino o extracittadino, ma comunque su percorrenze limitate e coerentemente con i limiti di percorrenza che ancora oggi si possono trovare. Riflettiamo sul fatto che c'è oggi di fatto una competizione a livello mondiale sullo sviluppo delle auto elettriche. Metà dei veicoli elettrici immatricolati nel mondo sono immatricolati in Cina per adesso. E quindi l'utente cinese ci dice moltissimo su come devono essere questi veicoli che vengono fatti pensando al cliente cinese. Ma in questi ultimi anni Tesla, che era presente in qualche modo gli Stati Uniti, sta avendo molto successo nel mondo e Volkswagen in particolare, Renault da molti anni e PSA in questo momento stanno lanciando le loro versioni di veicoli elettrici. Quindi sta cambiando il mondo e non è un mondo solamente suddiviso in blocchi perché Tesla sta investendo in Germania e in Cina per costruire veicoli con delle fabbriche da 500 mila pezzi l'una. PSA, l'operazione PSA ha una delle sue logiche, diciamo Stellantis oggi con FCA, ha una delle sue logiche nel fatto di portare negli Stati Uniti le capacità tecnologiche di questi gruppi anche da questo punto di vista. e naturalmente le aziende cinesi stanno lavorando sempre di più, pensiamo al fatto che Volvo è un'azienda cinese di fatto oggi, stanno lavorando sempre di più per essere presenti sui mercati europei. Quindi la competizione aumenta, la fruibilità d'uso aumenta e abbiamo finalmente dei modelli belli da vedere, belli da guidare, interessanti e quindi vi troverete sempre di più in officina delle auto elettriche. Sapete bene che le auto elettriche hanno due caratteristiche, molta meno meccanica e delle competenze di elettronica che è necessario avere. Quindi noi stiamo lavorando con i nostri partner, le nostre reti e in particolare vogliamo svilupparlo con Point S, la formazione per permettere alle officine di essere in grado di attirare e di gestire anche questo tipo di autoveicoli. Vi porto qui un esempio di questo momento, vedete dei pallini gialli, io prima non sono andato nel dettaglio e non lo farò adesso nel raccontarvi tutto ciò che Continental produce per costruire un autoveicolo. Abbiamo degli autoveicoli in cui il nostro contenuto arriva fino al 60-70% del valore dell'autoveicolo, quindi vi dico, Continental veramente sta lavorando sul veicolo del futuro, non solo sulla parte pneumatici ma su tutto. E questi veicoli molto presto li vedremo girare sulle nostre strade e la crescita c'è veramente. Investiamo qualcosa come il 7% del fatturato, secondo gli anni, in ricerca e sviluppo di tutte queste tecnologie. Quindi se c'è un'azienda al mondo che vi sa dare la parte pneumatici, ma io dico uno pneumatico che frena bene, è interessante se, noi siamo tra i più grandi produttori di sistemi frenanti al mondo, quindi se è costruito, sviluppato insieme al sistema frenante. Il sistema frenante recupera energia per caricare la batteria, quando si deve frenare ce lo dicono i sistemi di connessione col mondo circostante. Quindi veramente è un tutt'uno, si usa molto la parola olistico, che vuol dire tutto insieme, ed è un mondo in cui la parte olistica sta. Questo voi dei media lo vedete, lo vivete tutti i giorni, no? C'è una cosa che state vedendo che sta arrivando. Assolutamente, assolutamente. E ne parliamo moltissimo. Ecco perché io mi trovo, oltre alla parte pneumatici, che è quella che seguo più direttamente, a parlare tanto anche di tutte queste componenti. Ci sono delle componenti anche negli pneumatici che li rendono sempre più intelligenti, per esempio sapete che da alcuni anni gli pneumatici dialogano col veicolo per dire quando la pressione cala, e abbiamo delle innovazioni, per esempio questi sistemi che sigillano l'interno dello pneumatico per evitare una perdita d'area, evitare una foratura di fatto, e quindi dare più sicurezza, che è la voce poi alla base di tutto questo, più sicurezza al vostro cliente. Gli pneumatici per le auto elettriche vengono sviluppati specificamente perché ci sono aspetti tecnologici importanti. I veicoli elettrici sono molto più pesanti, lo sapete, perché il motore elettrico pesa, e richiedono più pressione di gonfiaggio, quindi condizioni particolari di utilizzo. Devono avere ridotta resistenza a rotolamento perché questo vuol dire aumentare l'autonomia, e sapete che il punto debole ancora delicato oggi delle auto elettriche è l'autonomia misurata. E la rumorosità, nel momento in cui un'auto è elettrica, l'oggetto più rumoroso a bordo, salvo l'autoradio, se la tenete a volume alto, l'oggetto più rumoroso a bordo sono gli pneumatici, e quindi la silenziosità diventa qualcosa di molto importante. E poi le accelerazioni, per esempio, delle auto elettriche sono molto forti, e quindi l'abrasione, l'usura diventa più veloce. E quindi bisogna gestire queste caratteristiche particolari. E infine, negli autoveicoli, se fino a qualche anno fa, pensiamo al 2013, il 2013 ci sembra lontano, ma non è lontanissimo, la parte di software era circa il 10% dell'autoveicolo, e la parte maggiore era quella che chiamiamo hardware, cioè la meccanica, la componentistica. Oggi abbiamo tranquillamente un 40% di software, tra pochi anni, ma ci siamo, e un 40% di hardware. Questo vuol dire che chi fa il nostro mestiere ormai fa ingegneria meccanica, ma fa anche tantissima ingegneria elettronica. Fermerei qua un attimo, Presidente, su questa slide, che credo che, non che gli argomenti che ha raccontato precedentemente non siano meno importanti, però mi sembra esemplificativa di come da questo schema cambieranno anche molte cose sulla formazione del personale, penso a Pointess, ma non solo, ma anche per Continental, c'è un'evoluzione che va verso la parte più softwareistica dei veicoli, e quindi anche tutta la parte di assistenza, di post vendita, inevitabilmente avrà un cambiamento importante. Faccio un esempio su questo che è interessante. Dicevo prima che gli acquirenti di autoveicoli sono sempre più flotte, le flotte vogliono sapere cosa accade ai loro veicoli, non parliamo solo di autovetture, parliamo di furgoni, basta parlare del mondo Amazon, e parliamo di camioni, di trasporti, che vanno geolocalizzati, che vanno indirizzati, dove è ancora più importante viaggiare in modo efficiente, quindi fare la strada giusta, la velocità giusta, eccetera, controllare i consumi, e tutto questo oggi viene monitorizzato da fuori. Quindi abbiamo veicoli in cui la parte hardware e la parte software sono integrate, parlano col mondo circostante, e rispettano a regole e requisiti del proprietario della flotta di autoveicoli che vuole certe cose. Quindi oggi dare queste componenti non è più un optional, non è più come dire... È un obbligo. È l'essenza stessa dell'autoveicolo. Vi dirò tra un attimo che gli autoveicoli oggi non sono, come dicevo prima, dei cellulari su ruote, sono dei centri dati su ruote, cioè la quantità di dati che vengono scambiati tra il veicolo e il mondo circostante è ormai enorme. E questo vuol dire tecnologia, infrastrutturazione, vuol dire che anche il settore pubblico, diciamo le città, le autostrade, devono dialogare con i veicoli per poterne sfruttare al massimo le funzionalità. Presidente, chiaramente si tratta di una rivoluzione fondamentale per la storia dell'automobilismo e per tutto quello che è l'indotto che vive questo cambiamento. Una domanda mi sorge spontanea. Abbiamo parlato di come sta cambiando l'approccio alla costruzione del veicolo, come cambierà evidentemente l'assistenza. Inevitabilmente verrà coinvolto anche il processo di vendita o di assistenza nella gestione proprio del cliente. Però c'è anche un tema legato alla mobilità, all'infrastruttura, il suo punto di vista a riguardo. Quando sarà concreto questo passaggio, non solo in termini di evoluzione tecnologica, che abbiamo visto essere già a un buon punto, ma anche proprio di utilizzo? Sto dedicando tantissimo del mio tempo a discuterne di questo tema con enti pubblici, con altre aziende, perché c'è questa impressione strana che dall'oggi al domani si gira una chiavetta e il mondo è cambiato. Il mondo cambia con gradualità. Per esempio, uso l'esempio delle autoguide autonome, che è il più estremo e il più interessante, secondo me. Noi critichiamo le autoguide autonome, che peraltro stanno già guidando milioni di chilometri di test, e in alcune zone sono anche permesse sulla pubblica strada, però lo scopo non è di farle viaggiare nel centro di Milano o di Napoli o di Roma e vedere cosa succede. Lo scopo è, per esempio, tutti voi avete in mente che due anni fa c'è stato in autostrada a Bologna un incidente di un camion che è esploso, ha fatto cadere l'autostrada, ha ucciso persone. Quel tipo di distrazioni che sono oggi normali, un domani non dovrebbero più succedere. Ricordiamoci che si dice due numeri. Ogni anno circa un milione e duecentomila vittime della strada. Noi abbiamo superato col Covid da pochissimo questo numero. Quindi ci abbiamo messo, direi a novembre, ci abbiamo messo nove mesi di Covid per parlare di una cosa che succede ogni anno sulle strade. E l'altro numero è che il 90% degli incidenti avrebbe a quanto risulta causa di errore umano. Quindi, se mettiamo più tecnologia sugli autoveicoli, questo avviene. Quando avviene? Con gradualità, con segmenti successivi di utilizzo. Anche le auto elettriche. Oggi, se io devo fare 400 km al giorno, 500 km al giorno in autostrada, probabilmente un'auto elettrica non è la soluzione. Ma se devo girare 50 km intorno a casa mia e ho facilità di ricarica, posso perfettamente usare un'auto elettrica. Quindi, sono mondi che si incrociano, si avvicinano e pian piano diventeranno normalità per noi. Se dovessimo fare un gioco, e chiaramente lei non ha la sfera di cristallo, che data darebbe a chi ci sta ascoltando? Cioè, quando il parco circolante sarà massivamente costituito da vetture elettriche? Facciamo una grossa distinzione tra auto nuove, immatricolate e parche circolanti. Facciamo un esempio. In Italia si vendono ogni anno, dipende dagli anni, diciamo da un milione e mezzo a due milioni di autoveicoli, vetture, ok? E ci sono in totale 40 milioni di autoveicoli. Quindi ci vogliono anni e anni per avere un parco completamente evoluto. Però ci sono delle svolte. Io mi ricordo quando sono stati lanciati i cellulari, all'inizio ce l'avevano in pochi. Poi a un certo punto un po' più di gente e un giorno ci siamo svegliati e tutti hanno il cellulare. Quindi queste cose succedono, succedono. Lidia, come vive poi in test questa rivoluzione? Soprattutto mi interessa capire il punto di vista vostro sull'impatto che potrà avere questo cambiamento sul vostro business retail. Beh, noi ci stiamo preparando sicuramente come rete. Abbiamo già degli accordi per le colonine elettriche e per garantire dei servizi agli utenti di nuova generazione. Sicuramente è una sfida. Quello che volevo chiudere però questo intervento sottolineando un aspetto importante. Il ruolo di Pointess come rete mondiale è quello di fare da trade union tra produttori, tra i nostri partner e i nostri aderenti per facilitare il passaggio di tante informazioni importanti per facilitare delle relazioni in modo da garantire il successo sia al produttore sia al nostro partner che al nostro aderente che altrimenti diventa... Questo mi sembra un passaggio fondamentale. Chiuderei con una domanda un po' filosofica ma che poi in realtà secondo me contiene dei connotati importanti. Siamo pronti per tutta questa rivoluzione? Ecco, noi diciamo sì e riprendo le parole di Lidia siamo pronti o non siamo pronti. Noi sappiamo che queste cose avverranno e avverranno a breve. Gli pneumatici per fortuna continuano a rotolare e quindi se c'è una cosa abbastanza certa è che nei prossimi anni di pneumatici vivremo ancora. Allora noi dobbiamo lavorare perché le officine siano pronte a dare assistenza, sicurezza, competenza ai loro clienti perché i clienti questo cercano in un futuro in cui sono ancora un po' insicuri non hanno capito bene cosa succede e quindi il senso del networking il senso della partnership è di lavorare insieme per rendere le officine professionali e per rendere i clienti sicuri e quindi fidelizzati ed è questo il senso di quello che vogliamo fare insieme. Noi ce l'auguriamo chiaramente è un percorso che Pointess in cui crede ma penso anche che voglia poi condividere con i propri partner che è un po' questo il messaggio di questo contenuto che abbiamo affrontato insieme adesso. Grazie. Grazie a Lidia grazie all'amministratore delegato di Continua d'Italia Alessandro Martino Grazie a voi per l'invito e per la possibilità di parlare di queste cose che sono domani ma anche oggi. Rappresentano anche un po' la visione per il futuro che però è anche il presente ha ragione. Noi proseguiamo con il quarto e ultimo spazio di questo secondo appuntamento degli e-live forum di Pointess Italia.